Lo sviluppo integrale dell'uomo, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla povertà e al narcotraffico, la giustizia, la pace e la riconciliazione sociale sono stati al centro del colloquio di Papa Francesco con il Presidente della Repubblica Argentina Maurizio Macri. Nel corso dei cordiali colloqui che manifestano il buono stato dei rapporti bilaterali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina, riferisce un comunicato della Sala Stampa Vaticana, è stato ribadito il contributo positivo, soprattutto nell'ambito della promozione umana e della formazione delle nuove generazioni offerto dall'Episcopato e dalle istituzioni cattoliche nella società argentina, particolarmente nell'attuale congiuntura economica. Infine, non si è mancato di fare riferimento ad alcuni temi di maggiore entità e di interesse in ambito regionale e mondiale.